Vendevano il proprio corpo ad anziani ultra sessantenni per poche decine di euro per importi che variavano dai 20 ai 50 euro senza farsi troppe remore, avendo come unico obiettivo facili guadagni e ottenere ricariche telefoniche per i loro cellulari. Da diversi mesi due sorelle rumene minorenni di 15 e 16 anni residenti con la loro famiglia Pietrarubbia, presumibilmente per le condizioni di indigenza nelle quali vivevano, avevano coinvolto diverse persone anziane anche in rapporti giornalieri consumati o nelle abitazioni dei clienti o nelle loro macchine. Per questo sono stati messi agli arresti domiciliari Adrio Bini, di 74 anni, sposato, commerciante di auto e Palmiro Sperindio, 65enne celibre, entrambi residenti a Pietrarubbia. Il giro di clienti però, dicono i militari dell'arma dei carabinieri delle stazioni di Pian di Meleto e Macerata Feltria, che in collaborazione con il nucleo operativo di Urbino hanno condotto le indagini, è ben più vasto e per ora risultano coindagate altre 4 persone. L'inchiesta è partita quest'estate, quando la madre delle due ragazze ha sporto denuncia per una tentata violenza sessuale ai danni delle due da parte di un magrebino che probabilmente, a conoscenza dell'attività delle due sorelle, è andato per le spicce, cosa che ha insospettito i carabinieri, che sono andati a fondo e portato alla luce lo squalido traffico. Sulla sorte delle due sorelle ora deciderà la procura dei minori di Ancona.